Dobbiamo riuscire a tenere la vittoria, quindi bisogna andare al di là della ragione, al di là di tutto, mettere il cuore in campo. Abbiamo bisogno dei tre punti che diventano vitali e fondamentali per noi. Testa, gambe e cuore. Questo chiede mister Gianluca Festa ai suoi giocatori pensando alla gara casalinga del Como domani contro il Cesena. Sfida che arriva dopo l'ennesimo pareggio, l'ennesima rimonta subita nel finale, mentre le altre concorrenti per la salvezza riescono a fare passi avanti. Come la Salernitana che il Midi ha vinto in zona Cesarini proprio contro il Cesena. Questa squadra è una squadra che è in grande crescita. Se guardiamo le ultime 12-13 partite comunque, abbiamo perso i due. So che abbiamo fatto tanti pareggi, però una squadra in crisi non gioca come giochiamo noi, una squadra in crisi non ha l'atteggiamento che abbiamo noi in campo. Quindi è solo una crisi di risultati che però ovviamente in questo momento diventa fondamentale. Anche giocare meno bene, però riuscire a vincere le parite, questo è fondamentale. Non sarà una parità facile, la vittoria non è mai scontata, poi per noi non lo è in assoluto. Ci sono gli avversari. Per domani Mister Festa dovrà fare almeno di Giosa che non ha recuperato dopo l'infortunio di sabato. Non dovrebbe essere disponibile nemmeno il terzino check, mentre è a rischio, causa influenza, l'impiego di scuffette fra i pali. Ancora una volta il Como chiama a raccolta ai tifosi proponendo biglietti scontati a 5 euro per i distinti. Domani la promozione sarà per residenti nell'Olgiatese e nella Bassa, mentre gli atleti under 17 della stessa area potranno entrare gratis. Biglietti disponibili domani mattina in sede e dalle 13 ai botteghini. Sarà inoltre valida anche domani la promozione per gli abbonati della palla Canestro Cantù. La Lega Serie B intanto ha diffuso il calendario di anticipi e posticipi fino alla 37esima giornata. Per il Como una sola variazione con gli azzurri in campo domenica 10 aprile alle 17.30 per la gara casalinga contro la Pro Vercelli.